Corriamo avanti con tutto il popolo di Dio, tenendo il nostro sguardo fisso su Gesù e scopriremo con stupore che è Lui che guarda con amore ognuno di noi. Guarda il grande e il piccolo, i nostri grandi problemi e le piccole cose. Così Papa Francesco, nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, commentando i brani della liturgia del giorno. Prima ha ricordato che l'autore della lettera agli ebrei ci esorta a correre nella fede, con perseveranza, tenendo fisso lo sguardo su Gesù. E poi, parlando del Vangelo di Marco, ha sottolineato che è Gesù che ci guarda e si accorge di noi. Pur in mezzo alla folla si accorge della vecchietta e gli tocca il mantello, poi si ferma a guarire la figlia di Jairo e ancora vede il corteo funebre del ragazzo figlio unico di una vedova e poi sente il cieco che lo chiama. Io vado, guardo Gesù, cammino davanti, fisso lo sguardo su Gesù e cosa trovo? Che Lui ha fisso il suo sguardo su di me. E questo mi fa sentire questo grande stupore. È lo stupore dell'incontro con Gesù. Ma non abbiamo paura, non abbiamo paura, come non ha avuto paura quella vecchietta di andare a toccare l'orlo del matto. Non abbiamo paura. Corriamo su questa strada, ma sempre fisso lo sguardo su Gesù e avremo questa bella sorpresa che ci riempirà di stupore. Lo stesso Gesù ha fisso il suo sguardo su di me.